Buongiorno e bentornati. In questo video vi presentiamo il montaggio di un orologio al quarzo da parete. Inseriamo una rondella di plastica, inseriamo il quadrante, che può essere un quadrante già esistente oppure uno da noi realizzato, mettiamo la rondella in metallo, chiudiamo con un dado e avvitiamo bene, inseriamo le ore e vanno spinte sino in fondo, bene, poi mettiamo i minuti e poi chiudiamo con i secondi. Ecco il montaggio è realizzato, l'orologio è pronto per funzionare e per essere appeso ad una parete. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su YouTube. Grazie e buona giornata.